Cioè dovrebbero fare qualche cosa, anche per noi, non soltanto per loro, perché come sono esseri umani loro? Siamo esseri umani pure noi. Sono una trentina, soprattutto donne, e dalle prime ore di ieri mattina presidiano l'ingresso di Villa delle Rondini, un'ex abitazione privata a Licola Mare chiusa da molto tempo, oggi affidata ad un'associazione. A scatenare la protesta dei residenti di Licola Mare è stato il sentore di un imminente trasferimento di una decina di immigrati in una struttura chiusa per anni e riaperta, dicono le signore, all'improvviso qualche settimana fa, per realizzare in fretta bagni e camerate. Ci saremmo aspettati di tutto, ci dice qualcuno, eccetto che questa struttura dovesse diventare un centro di accoglienza. Sì, perché gli immigrati a Licola Mare sono già arrivati qualche mese fa. Il primo trasferimento è avvenuto nell'agosto del 2014, quando nell'albergo Londa furono portati 72 dei 300 migranti destinati a centri di accoglienza temporanei in Campania, organizzati in fretta e furia in diverse parti d'Italia per accogliere i tanti disperati che ogni giorno affrontano i cosiddetti viaggi della speranza. Da allora, ci dicono i residenti, non viviamo più, le risse sono all'ordine del giorno e si vivono scene da periferia del mondo. Cioè, dai balconi dobbiamo preoccuparci quando i figli si ritirano, e non è giusto. Già stiamo abbastanza male. Io ho paura di uscire di sera. Perché? Perché stanno troppo negri i cabasci. Ma i negri, i possenti. La cabasci è lavorata di Giuliano. Stanno rimazzati tutti i serembriati. Una ragazza di 15-16 anni fa una camminata, non sapevo che a fare. Una signora ci racconta di aver assistito a scene di autolesionismo da parte di un immigrato in preda ai fumi dell'alcol, in presenza anche di bambini. C'è chi teme aggressioni alle figlie, chi di essere derubato. Ci dicono che la situazione a Licola Mare è già da terzo mondo. Altri problemi non ne vogliono. È una guerra tra poveri, ci dice subito una delle signore che dalle prime ore del mattino presidia l'ingresso della villetta disabitata da anni. Non vogliono passare per razzisti, ma perché pensare sempre agli altri? Non è una guerra tra colore di pelle o nazionalità. Per me non è così. Allora fate qualcosa per Licola, perché siamo esseri umani, ci sono bambini. Non pensassero soltanto loro a si riempire i sacchi di soldi. Sul posto nella mattinata di ieri sono intervenuti polizie e carabinieri. Le donne hanno preteso di entrare nella villetta per accertarsi della presenza o meno di persone all'interno. Alcuni raccontano di aver visto nella notte entrare nella struttura circa otto persone, a volte in coperte. Ma la delegazione che ha avuto modo di entrare, scortata dalle forze dell'ordine, non ha trovato nessuno. Hanno però visto camere allestite per ospitare diverse persone e indumenti nuovi, ancora avvolti nel cellofan. Sono camerati pieni di letti fatti, con lenzuole, biancheria nuova, poi c'erano delle scarpe nuove, infraditi nuovi, tutto, di tutto. Qualcuno afferma che gli immigrati arrivati in nottata sarebbero stati scortati all'esterno della struttura quando alcune persone hanno provato ad entrare fracassando dei vetri. La situazione è tornata alla normalità questo pomeriggio, quando il sindaco di Pozzoli, Vincenzo Figlioli, è giunto personalmente sul posto per tranquillizzare i residenti sul dietrofront della prefettura. Per ora gli immigrati non andranno a lì colamare.